C'era un cacciatore nella legione, una leggenda. Non importa chi o cosa sia, vuole la taglia. Sicura che sia quella giusta? È lei. Bene, uccidila. Tu chi sei? Kanewise, sono qui per aiutarti. Devo sapere che diavolo sta succedendo. Credo che siamo incappati in una guerra contro una delle più potenti dinastie dell'universo. E perché succede proprio a me? Siete di sangue reale, vostra altezza. Vi attende una sorpresa quando scoprirete che faccio per vivere. Non conta ciò che fate, ma ciò che siete. Voi trovate là e uccidetela. Andate! La vita di vostra maestà sta per cambiare. Perché aiutarmi? La vostra Terra è una minuscola parte di una più vasta industria. Ora Balem ha pieno titolo sulla Terra. Quando la reclamerai, la Terra parterrà a te. Mieterò il loro pianeta domani prima di lasciare che lei me lo porti via. Si serve un piano. E potenza di fuoco. Approfittiamo di quest'occasione. Passi tutta la vita alla ricerca di una cosa. E lei è laggiù. Sparatele! E lei è laggiù. Ci siamo. Dovevi restare morta. Benvenuti. Oggi ci sono finalmente notizie sullo spin-off di Harry Potter. Gli animali fantastici dove trovarli di J.K. Rowling sarà una trilogia di megafilm. Secondo il CEO della Warner Brothers, i film non saranno né dei prequel né sequel, ma una estensione del mondo di Harry Potter. e seguiranno il magizoologo Newt Scamander. Non vediamo l'ora e naturalmente vi terremo aggiornati. Per oggi è tutto. Voi ci trovate anche su Facebook alla pagina Anteprima Cinema e noi ci rivediamo al prossimo video.